Ciao a tutti, oggi è martedì 20 ottobre 2020, io sono Stefano Bargiacchi Prostè, con me c'è Paolo Belvederesi, buongiorno Paolo da Londra. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Paolo, e oggi, aspetta che mi è partito il feedback sul fondo, quindi sappiamo anche che funziona tutto. Oggi Paolo non c'è con noi Gianluca Beccaria, però Gianluca sarà con noi domani, perché? Perché c'è questo webinar con iBroker, e soprattutto in collaborazione con il CME, che Gianluca diciamo che ci parlerà della giornata del trader istituzionale, cioè come funziona la tipica giornata sui desk istituzionali. Cosa che anche tu hai fatto, tra l'altro, Paolo, perché tu ai tempi lavoravi per un importante fondo in Italia. Sì, io sono stato per cinque anni responsabile del trading desk di una grossa casa di investimento in Italia, e quindi era il mio lavoro sapere come gestire gli ordini, visto che appunto li gestivamo di persona, e quindi convogliavamo tutti gli ordini di questa grossa FGR da immettere sul mercato, e ne curavamo l'execution. Ma senti Paolo, non so se la serie Diavoli l'hai vista, che ha avuto molto successo in Italia, e se no guardala. Gianluca diceva che in realtà la libertà del trader privato, e forse tu con le tue consulenze, con Zegos, che segui tanti trader e investitori anche personalmente, lo puoi ben dire. A volte è maggiore, perché invece dopo il 2008 ovviamente il livello di controllo del rischio è a volte limitante per i grandi trader. Cioè non è vero che le mani forti sono invincibili e possono fare tutto il contrario di tutto. Sei d'accordo? Sì, nel senso che ovviamente chi opera all'interno di una casa di investimento, sia un fondo long o un hedge fund, deve rispettare determinati limiti di rischio, sia in termini di posizione che di durata della posizione, di stop loss e così via. E questo è ovviamente importante. Dall'altra parte il vantaggio dell'investitore istituzionale è che gestisce delle sites molto importanti che hanno molto spesso un impatto sul mercato. Cioè il problema, paradossalmente il problema dell'investitore istituzionale è il problema opposto a quello dell'investitore retail. Nel senso che l'investitore istituzionale quando si muove non vuole muovere il mercato, sia per motivi di execution price finale e sia per motivi regolamentari, perché molto spesso le sites che emette su certi titoli possono superare anche un terzo del volume medio scambiato in un giorno. Quindi qualora non fosse attento nell'execution e nel ridurre il marketing impact del suo ordine potrebbe anche essere accusato di agiotaggio. Quindi è proprio un approccio completamente diverso. Questo con i pro e i contro, nel senso che chi muove il mercato sa dove il mercato può andare, o almeno quel titolo in quella giornata e però deve anche fronteggiare delle rigidissime normative e paletti che appunto cercano di evitare che se ne tragga indebitamente vantaggio. Mentre l'investitore retail di fatto può seguire questi flussi e beneficiarne qualora riuscisse effettivamente ad identificarli ed è questa la parte bella. Anche perché ha un vantaggio in questo senso. L'idea di Zeigos, la tua società di consulenza, nacque proprio da questo, secondo me. Cioè dall'idea di rendere disponibili per i privati e anche come clienti, consulenti finanziari e quant'altro, quindi anche professionisti, però informazioni che prima erano riservate unicamente appunto a quelli che erano chiamati le mani forti, i trader istituzionali, i desk e quant'altro. Chi ci segue da tempo ormai sa qual è il nostro approccio, che è un approccio di tipo istituzionale che cerca di identificare le opportunità sul mercato sulla base di ragionamenti e non di analisi grafiche. Per quanto riguarda l'analisi di singoli titoli va alla stessa cosa. Molto spesso elaboriamo delle trading ideas che si basano sull'analisi dei flussi in un particolare titolo o in un particolare settore o sul mercato in seguito al verificarsi di determinati eventi. Quindi sì, perché a noi piace poter colmare, e questa è come dicevi tu la razza di Zeigos, colmare quel gap informativo che sussiste tra l'investitore retail che si approccia al mercato e l'investitore istituzionale. Certo, allora per tutte le informazioni in questo senso voi potete andare sul sito Zeigos o scrivere a Paolo, se vuoi lasciare anche il tuo email Paolo. Io potete tranquillamente scrivere a info at zeigos.com Ok, lo lascio in chat, info chiocciola zeigos.com perché Zeigos pubblica anche un report molto interessante quotidiano che praticamente aiuta proprio l'operatività dei trader e arriva ogni mattina. A questo proposito, appunto, tra ieri e oggi di che cosa si è parlato? Tanta attesa per le elezioni americane, mi immagino. Assolutamente, cioè nel commento di questa mattina, nel commento di l'apertura, abbiamo trattato principalmente i due temi politici, quello delle elezioni in America, ma soprattutto quello dell'accordo che oggi è una giornata chiave per l'accordo tra i repubblicani e i democratici in merito allo stimolo fiscale, all'approvazione del pacchetto dello stimolo fiscale, in cui ancora c'è disaccordo ma le due posizioni si stanno avvicinando e oggi è una giornata veramente chiave. Altro tema del nostro commento di pre-apertura, un tema molto attuale, quello della Brexit, che potrebbe avere un impatto importante non solo sul cambio euro-sterlina, ma anche sul cambio euro-dollar ovviamente, e su altri aspetti, quali per esempio la sottoperformance del FUZI 100 rispetto all'Eurostoxx, in questo caso per esempio uno scenario di Brexit con un no deal comporterebbe una discesa della serlina, che però andrebbe a beneficiare paradossalmente più il FUZI rispetto che l'Eurostoxx, perché molte società del FUZI 100 beneficiano di un indebolimento della serlina, perché diventano più competitive nelle confronti dell'estero, mentre l'Eurostoxx non riuscirebbe a beneficiare di questa situazione. Poi c'è il discorso su come si potrebbero muovere le curve dei tassi in Inghilterra, ci sono delle opportunità anche in quel senso, perché anche lì un depreciamento della sterlina potrebbe aumentare l'inflazione in seguito all'inflazione importata e quindi aumentare i differenziali di spread tra i titoli a breve e i titoli a lungo, questo per chi vuole fare operazioni sul mercato monetario. E poi è interessante lo stesso, un altro spread trading che può essere fatto andando corti dei bond irlandesi e lunghi dei bond francesi, sempre in uno scenario di nodi del Brexit, perché l'Irlanda è molto più esposta di quanto non sia la Francia all'economia inglese e quindi ci si potrebbe giocare questo spread. Questo è quello di cui parliamo questa mattina, tra l'altro a livello di idee di trading, questa mattina noi abbiamo aperto una posizione lunga sull'Eurostoxx 3.221 con obiettivo 3.245. Aspetta che lo andiamo a vedere insieme, quindi Eurostoxx Long stamattina con Zegos da 3.221, lo andiamo subito a vedere. Adesso siamo a 3.240, quindi proprio dai minimi di giornata, apertura e target dicevi? Target era a 3.245 e stanzionante l'ha praticamente spolverato. Siamo a 3.244 di massimo oggi, ok. Quindi questa era una delle tipiche, diciamo... Questa era un'idea di trading intraday? Sì, questa è stata un'idea di trading intraday inviata questa mattina. Questa mattina... A che ora ha il report? Allora, il report sul commento di apertura arriva alle 8.30 di solito, ma questa idea è partita dopo l'apertura del mercato, intorno penso alle 9.10 l'abbiamo mandata. Quindi molto molto interessante. Quindi c'è un report mattutino delle idee di trading che come vedi e come vedete sono anche molto molto utili e interessanti e poi non solo intraday perché ci sono anche discorsi di medio-lungo periodo. Per esempio, tu tempo fa dicessi, io me lo ricordo molto bene, Saipen da tenere però per la vita. Poi c'è stata un'ulteriore discesa, è stata molto shortata, lo vedevamo anche con Pietro di Lorenzo, il suo turbi shotante, le posizioni istituzionali short su Saipen sono piaciute tantissimo, però adesso, come tu avevi giustamente detto, ha iniziato un pochino a risalire. Adesso ha superato gli 1.5 di nuovo. Come la vedi tu? Ancora un'azione che si può ottenere per il lungo periodo o in questo senso meglio a sto punto aspettare un attimo? Guarda, allora io ti ringrazio per per aver sottolineato questa cosa, ma a dire il vero la call su Saipen è sbagliata per adesso, è sbagliata perché l'ho chiamata con prezzi molto più alti e il titolo non ha affatto reagito alla tenuta del prezzo del petrolio. Chi va lungo Saipen deve avere una tantissima pazienza perché deve aspettare... C'è del valore, voglio dirti, nell'azienda, no? Allora, al momento è un valore nascosto, nel senso che perché effettivamente ovviamente si possa assistere ad un recupero del business di Saipen è necessario che le measures del settore oil investano nuovamente e questo per il momento è uno scenario che non si sta verificando per la scarsa visibilità sulla crescita macro. Sì, però quello che ti voglio dire, se guardi Eni così a colpo d'occhio, vedi che la reazione c'è stata ma è molto debole e poi ti faccio lo stesso colpo d'occhio su Saipen e come vedi la reazione è un pochino più marcata. Poi per carità siamo ancora bassi, nessuno dice... Sì, stanno sovraperformando i titoli che sono stati particolarmente massacrati, diciamo penalizzati negli ultimi mesi. Se tu ti fai una... Io ho qui davanti la performance dei migliori titoli in Italia, abbiamo Tribù che era sui minimi storici, oggi fa più sette perché lo stanno ricomprando, sta salendo Autogrill, sta salendo Geox, sta salendo Leonardo, Popolare di Sondrio, Monte dei Paschi, Banco Popolare di Milano. Cioè stanno salendo, stanno sovraperformando il mercato tutti i titoli particolarmente shortati. Quindi la mia impressione è che ci stiamo assistendo ad una riduzione delle posizioni short, generalizzate, ma non perché gli hedge fund vogliono prendere profitto, ma perché magari devono prendere profitto per margin call varie o perché devono ridurre la grossa exposure. Quindi questi rimbalzi... Il rialzo del fin via oggi potrebbe essere in parte regato a questo discorso, anche perché è in contotendenza rispetto a un DAX che ha un rialzo meno marcato. Sì, infatti è interessante, per esempio in queste giornate, seguire molto bene come performano i singoli future per vedere qual è quello che è il leader, qual è quello che è il laggard, in modo tale da implementare quelli che io ho sempre chiamato i second chance trade, nel senso che nel momento in cui io per esempio vado lungo di un future, perché mi gioco il rimbalzo come questa mattina e poi magari vedo che l'idea non funziona. Se io ho identificato che il DAX, come dicevi tu, è invece il future più debole, allora sono sempre in tempo a andare short in spread contro la posizione lunga che ho preso andando short DAX per giocarmi un relative trade e quindi eventualmente recuperare la performance qualora l'idea lunga iniziale non dovesse funzionare. Perché magari... Potrei dire una cosa, guarda Paolo, se tu prendi il Fuzzimib, Fuzzimib Future, per esempio, prendiamo per esempio il dicembre, puoi fare direttamente, ed è una cosa molto bella di TradingView, ti accetta gli operatori, quindi io metto il Fib, poi posso fare più... Scusami, diviso, perché accetta anche il diviso, DAX, e ti plotta direttamente la divisione tra i due. Quindi Fib diviso DAX ti fa direttamente la divisione tra i due compagnia. Lo fa anche sui titoli, adesso vabbè ho sbagliato a fare l'input, perché ci sono un po' di parametri, però lo fa anche sui singoli titoli, accetta tutti gli operatori, il più, il meno, il per e il diviso, ed è veramente una cosa molto comoda di TradingView. Quindi per esempio, se tu vuoi andare a, che ne so, plottare i fang, fai semplicemente Facebook, più Amazon, più Google, chiaramente conoscendo, eccetera, e lui ti fa il plot direttamente di questi qua. È veramente comodo, l'ho scoperto da solo. Sì, questo è molto interessante, perché lavorare con lo spread trading è innanzitutto l'approccio che riduce il rischio del trading intraday, offre delle opportunità di recupero della posizione e è, se vogliamo, l'approccio maggiormente usato da chi fa trading sulle sale operative, degli hedge fund o presso le banche d'affari. Il direzionale puro nelle banche d'affari se ne vede poco, tutti lavorano in spread, perché è più facile sapere cosa sale o scende più di un'altra cosa rispetto a sapere e prevedere sempre molto bene la direzionalità dei mercati. Quindi lo spread trading è una tecnica molto interessante che io invito sempre a considerare, perché tra l'altro anche a livello motivo è molto più facilmente gestibile. Ecco, in questi casi quindi il rapporto da inserire è il diviso, se non vado errato. Cioè tu dovresti fare il diviso DAX. Quindi Fib diviso DAX o Erustox diviso DAX e quindi si va lunghi del numeratore, il quadro del denominatore o viceversa secondo di quello che è il posizionamento che si vuole fare. Certo, certo. E mi raccomando, attenzione alle size perché deve esserci un'equivalenza di controvalore, giusto? Sì, esattamente. Perché coi futures dobbiamo sempre ragionare in termini di controvalore. Questo almeno per, diciamo, asset class equiparabili. Se invece io per esempio mi prendo un titolo con un beta che è pari a 2 e allora in quel caso se io ho un titolo che ne so, come unicredito il cui beta è sicuramente più elevato di 1 e me lo gioco contro il Fuzzimib, in quel caso la size del Fuzzimib deve essere più bassa perché il beta di unicredito è più elevato di 1. E va ponderato per i beta, tenendo conto. Sì, sostanzialmente sì. Ok. Molto, molto interessante. Se avete, veramente Paolo, in questo settore è una vera e propria autorità, quindi se avete qualsiasi informazione c'è l'email infochiocciolazegos.com e vi potrà sicuramente aiutare. Paolo, venendo velocemente ai mercati, io faccio vedere una cosa che è questo doppio massimo che avevo segnalato che secondo me ci terrà un po' impegnati, non è detto che vada a buon fine, non è un segnale di trading, però è vero che c'è stata sull'S&P 500 una mancata test del massimo precedente, c'è stato anche sul Nasdaq, ne parlo però nella mia analisi settimanale in modo assolutamente approfondito. Notare che ieri il Nasdaq ha testato con precisione il limite della lateralità che avevamo segnalato, quindi il primo livello da tenere d'occhio è questo qui, cioè vedere se rientra o meno all'interno dello stesso e poi eventualmente se raggiunge il pivot del doppio massimo che è informazione. Ma ripeto, questo è un pattern che indico perché secondo me da qui al 3 novembre in elezioni americane si vedrà soprattutto un lavoro su questa zona. Tu come vedi il discorso elezioni? Poi chiudiamo Paolo. Ma io penso che possano essere un game changer solamente se vince Biden, altrimenti l'avventuale vittoria di Trump è un non-event per i mercati. La vita potrebbe essere un movimento grosso, no? In caso. Un movimento rialzo, maggiore fiducia, maggiore fiducia sul barro del pacchetto fiscale e almeno come prima reazione è questo. Poi successivamente ci si focalizzerà sull'eventuale aumento delle tasse da parte di Biden sulle aziende. Invece lo scenario quello negativo che potrebbe portare ad un dicembre in sofferenza è quello del prolungamento degli esiti elettorali e quindi l'incertezza, l'incertezza che potrebbe portare a uno storno dei mercati anche nell'ordine del 10%. Ok, senti Paolo, allora io do appuntamento a tutti per domani, ci sarà appunto Gianluca Beccaria con un evento in collaborazione con il CME, la giornata dei trader istituzionali, molto molto interessante, non mancate domani alle 18 e poi ci sono tutti gli appuntamenti come sempre, incluso il nostro, ogni martedì mattina alle 10 e mezzo. Paolo, allora grazie mille, ti saluto e buona settimana iniziata ieri, ma insomma. Ciao. Scegliamo.